Dall'inizio della settimana, per effetto dell'anticiclone africano, l'aria a Cremona in provincia si fa sempre meno respirabile, mentre le temperature massime raggiungono punte fra le più alte di sempre. Ieri, secondo Trebimeteo, la temperatura percepita a Soresina è arrivata a 46 gradi a causa dell'umidità, 9 gradi in più della massima reale. Su tutto il territorio provinciale l'emergenza si acuisce. L'ozono a Cremona in via Fatebene Fratelli, secondo i dati ARPA, è salito a una punta massima di 199 mg per metro cubo, oltre la soglia d'allerta di 180, con una media sulle 8 ore di 184. Le polveri PM10 sono su livelli elevati, 42 mg in via Fatebene Fratelli, 46 a Spinadesco, dove l'ozono ha toccato quota 202, per arrivare a 214 a Crema. Esporsi al sole di pomeriggio è quindi pericoloso per i bambini, per le persone con problemi respiratori e per chi fa sport. Secondo i dati, Cremona oggi ha toccato 37 gradi centigradi, 42 percepiti. Anche domani, secondo le previsioni dell'ARPA, il caldo sarà torrido. Di notte la minima oscilla sui 24 gradi per risalire a 37 nel pomeriggio, con venti deboli e senza precipitazioni. Le massime scenderanno soltanto sabato attorno ai 32 gradi e al pronto soccorso, sia dell'ospedale maggiore di Cremona che di Crema, sono diversi ogni giorno gli accessi a causa dei malori. Sbalzi di pressione con capogiri e mancamenti, difficoltà di respirazione e instabilità nel cammino colpiscono sia i malati cronici che in alcuni casi anche i giovani, come successo a Cremona durante la festa di lunedì sera in piazza del comune.